Musica Questo antico edificio, semplice ma elegante, è stato costruito alla fine del Settecento per ospitare la regia manifattura dei tabacchi, quando la produzione del tabacco fu assunta dal monopolio. In questo stesso luogo esisteva un castello costruito dai Savoia nel Cinquecento, detto il Viboccone. Era un castello circondato da un grande parco e affacciato sulle rive del Po fu distrutto durante l'asseggio del 1706. Ne rimane testimonianza in questa colonnina di granito, con l'immagine della consolata e la data. La memoria del castello è rimasta nel quartiere in cui ci troviamo, il Reggio Parco. Qui ha sede dall'anno 2001 l'archivio scientifico e tecnologico dell'Università di Torino, che fu fondato nel 1992 e che celebra oggi i suoi primi vent'anni di attività. Tutto nacque negli anni Ottanta, quando si incominciò a diffondere fra alcune persone che operavano nell'Ateneo una sensibilità particolare verso le testimonianze materiali della scienza del passato. Sensibilità stimolata anche dall'assistere alla dispersione e completa distruzione dei cimeli, alla profonda trasformazione di ambienti che venivano destinati alle nuove esigenze della ricerca o dell'insegnamento. Trasformazioni che però non tenevano conto dell'importanza storica dei luoghi e che venivano condotte senza documentare adeguatamente le situazioni preesistenti. Nel 1991, come risultato delle riflessioni e delle indagini condotte sul patrimonio storico-scientifico conservato nella nostra Università, ma anche in altre istituzioni torinesi, fu organizzata da Galloni, che ne fu appunto il curatore, la mostra Strumenti ritrovati. Trovò una sede prestigiosa nelle sale dell'Archivio di Stato, disegnate dallo Iuvarra. Si poteva allora dare una dimostrazione concreta della ricchezza costituita principalmente, sì, dagli strumenti scientifici, ma anche da tanti altri tipi di testimonianze materiali, nate appunto dall'attività di ricerca e di insegnamento di un'università vecchia più di 600 anni. Questa mostra fu un segnale forte e che permise di evidenziare l'esigenza di una cura costante e non episodica di quel patrimonio. Così il magnifico rettore del tempo, il professor Mario Umberto Dianzani, personalmente sensibile a questi temi, si adoperò per far nascere una struttura nell'Università di Torino che avesse per scopo proprio la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre ricchezze storico-scientifiche. Sì, io ho sempre avuto una grande passione per la storia e per le cose vecchie, per le cose antiche. Quando innominatamente diventai rettore nel 1984 mi meravigliai moltissimo che un'università storica come Torino non avesse né un archivio storico né un archivio dei grandi apparecchi. L'istituto era piccolo, non c'era spazio, i nuovi apparecchi prendevano molto spazio e allora gli allievi che pensavano alle loro ricerche evidentemente volevano portare tutta questa roba in soffitta. Io pensai che dovessi a un certo momento cercare di fare qualcosa viceversa per conservarli, conservarli in un posto, in un centro, in un centro grandi apparecchi antichi. Pensavo che l'avere o mettere tutti insieme gli apparecchi scientifici antichi fosse qualche cosa che abbellisse l'università. La prima sede fu nell'edificio dell'ospedale di San Giovanni Vecchio, nella manica al piano rialzato su via San Massimo, un tempo occupata dal reparto degli incurabili uomini. Più recentemente utilizzata dall'istituto di mineralogia e dal relativo museo, che nel frattempo avevano traslocato. Primo presidente fu il professor Guido Saini di chimica analitica e primo direttore fu il dottor Carlo Trossarelli. Sono stato il primo direttore dell'archivio scientifico tecnologico dell'Università di Torino. Appena seppi che stava per nascere questa istituzione mi sono subito precipitato a propormi appunto come direttore, in quanto mi sono sempre interessato agli antichi strumenti. Essendo stato conservatore del museo di mineralogia, sapevo che c'erano degli spazi liberi in via San Massimo dove avremmo potuto ospitare gli strumenti recuperati. Purtroppo non disponevo di un ufficio apposito e utilizzavo la mia scrivania presso il Dipartimento di Scienze della Terra che era appena nato. Data questa necessità cercai in qualche modo di trovare una sede a Concia e riuscii a recuperare due stanze a Palazzo Carignano, una sede molto degna e anzi direi quasi di prestigio. Nel frattempo ci furono molte partecipazioni a vari congressi nazionali ed internazionali dove Galloni, che allora era vicepresidente, presentò delle relazioni sull'organizzazione e i fini dell'archivio. Ancora prima della fondazione dell'Astut, Galloni aveva presentato una ricerca ad un congresso della Scientific Instrument Society sui fabbricanti piemontesi di strumenti scientifici tra 700 e 800, dando una dimostrazione di come si possa fare ricerca partendo effettivamente dai reperti materiali. In un altro congresso al Politecnico, nel 1991, Galloni aveva spiegato perché l'ente che si andava organizzando non dovesse avere il titolo di museo, ma piuttosto di archivio, proprio per sottolineare la pratica in possibilità di realizzare un vero e proprio museo aperto al pubblico, ma piuttosto di creare una grande collezione allo scopo di salvare e conservare i reperti, per farne poi magari oggetto di mostre e di attività didattiche, oppure divulgative. Un'altra importante occasione fu un congresso a Firenze nel maggio del 1995, in cui Galloni poteva mettere in relazione il felice momento della ricerca biomedica a Torino, nella seconda metà dell'Ottocento, in pieno periodo del positivismo, con gli strumenti realizzati da personaggi quali Angelo Mosso, Carlo Giacomini e Giulio Bizzozzero. Le prime iniziative dell'Astut permisero di allargare il campo di attività anche fuori dall'Ateneo, ad esempio collaborando al riordino dell'importante fondo di strumenti conservato nel Real Collegio Carlo Alberto di Moncaglieri. Fu realizzato anche un primo recupero della strumentaria conservata nell'Istituto per la nutrizione delle piante, ente dipendente dal Ministero dell'Agricoltura e che aveva una grande tradizione di ricerca risalente all'Ottocento. Nel 1997 la direzione passò al dottor Giuseppe Slaviero, che dovette organizzare il trasloco dell'intero magazzino, nel frattempo arricchito dai molti recuperi effettuati, dalla prima sede in via San Massimo ai vasti spazi utilizzati dall'Università per gli archivi del centro commerciale Piero della Francesca, in corso svizzera. In questa sede il magazzino fu organizzato con scaffalature per pallets che rendevano razionale e pratica la movimentazione degli oggetti, grazie anche ad un apposito mezzo meccanico. In quel periodo fra le attività esterne vi fu un'installazione nel 48esimo congresso internazionale di astronautica, con antichi strumenti di fisiologia per lo studio della respirazione in alta quota. Nel 1998 fu nominato presidente il professor Gianni Lozano, di fisiologia umana, e con il finanziamento della provincia di Torino fu realizzata la mostra itinerante Il mezzo secolo d'oro della medicina torinese, 1860-1910, che ebbe la sua prima edizione a Pinerolo. Dopo il professor Saini io sono stato il secondo presidente dell'Astut. Durante il periodo in cui sono stato presidente l'Astut ha organizzato a Pinerolo una mostra sul mezzo secolo d'oro della medicina torinese che ha avuto molto successo ed è stata tenuta in una vecchia chiesa sconsacrata di proprietà del comune. Successivamente a Pinerolo è stato anche organizzato un convegno sulla figura di Mucciere Buniva. Gli atti di questo convegno sono successivamente stati pubblicati dall'Astut se stesso. Nello stesso anno, collaborando con l'Università di Firenze, si arricchì la mostra presentata a Vinci, la scienza della visione, con molti strumenti ritrovati nella clinica oculistica torinese. Nell'anno successivo la mostra itinerante fu portata a Chivasso con una sezione speciale dedicata ai primi organi artificiali, cuore e valvole cardiache che avevano avuto proprio un pioniero in quella zona nell'ingegner Bosio, ma non soltanto, anche una realtà industriale nella Sorin di Saluggia. Vi fu anche una mostra nel Museo regionale di Scienze Naturali per ricordare i 150 anni della Facoltà di Scienze in cui l'Astut ricostruì due ambienti di ricerca ottocenteschi, uno di chimica e l'altro di biologia animale. La ricostruzione degli ambienti in tutti i loro dettagli è rimasta una caratteristica delle mostre, insieme all'uso degli audiovisivi, in particolare del video, con cui fin dalla prima mostra, strumenti ritrovati, si erano realizzati brevi filmati, vere didascalie video, che accompagnano alcuni degli strumenti esposti, mostrandoli in funzione e permettendo così di comprendere molto meglio il funzionamento. Sono stato direttore dell'archivio dal 1996 al 2004. I primi impegni sono stati l'allestimento dell'ufficio in Palazzo Carignano e il trasferimento del magazzino dal San Giovanni Vecchio al Piero della Francesca. Come lavoro culturale nel periodo della mia direzione sono state allestite importanti mostre a Pinerolo, Chivasso e Trento, in cui si è ricostruita l'attività di scuole biomedica e geologica torinese della fine dell'Ottocento. Un lavoro culturale che ricordo con particolare piacere riguarda la figura di Michele Buniva, medico pinerolese del periodo della rivoluzione francese e della successiva annessione del Piemonte alla Francia. Il Buniva scrisse una memoria autobiografica in sua difesa. Il manoscritto ci venne donato dal professor Narciso Nada e fu da noi pubblicato nell'anno 2000. Nell'ottobre dello stesso anno organizzammo un convegno internazionale a Pinerolo in cui vennero ricostruiti da storici illustri i vari aspetti della complessa figura del Buniva stesso. E fu proprio il giorno dopo il congresso di Pinerolo, il 15 ottobre 2000, la giornata più tragica per l'Astut, perché la piena della Dora Riparia, dopo aver portato gravi danni al corso superiore, inondò una piccola parte di Torino, in cui però c'era il grande magazzino degli archivi universitari, che furono sommersi da 4 metri di acqua e fango. Questo vasto edificio fu poi per mesi sede di un grande lavoro di recupero dei documenti e degli oggetti danneggiati. La percezione della gravità dell'alluvione fu avvertita lentamente dalla città di Torino, anche perché la zona interessata in effetti è limitata, però qui l'acqua arrivò molto alta, soprattutto nei nostri locali che si trovavano al di sotto del piano stradale, per cui l'archivio storico e l'archivio scientifico e tecnologico furono letteralmente riempiti di 3 metri di acqua. Sono riuscito ad avvicinarmi scendendo le rampe coperte di fango alle vitrine, alle finestre dell'archivio e ho visto un caos totale in cui tutto era stato ovviamente ricoperto di fango, le carte dell'archivio storico si erano sparse dappertutto, alcuni scaffali erano crollati e altri scaffali di legno avevano galleggiato come zattere sull'acqua e si erano fermati, quando le acque se ne sono andate, appesi al di sopra degli scaffali metallici. Un caos totale. Abbiamo poi lavorato per circa tre mesi con un gruppo di studenti volontari e con alcuni operai a recuperare tutto il materiale, a lavarlo sommariamente e a trasportarlo nei locali che c'erano stati messi a disposizione dentro la manifattura tabacchi. Abbiamo anche avuto per fortuna subito l'aiuto da parte del Museo di Storia della Scienza di Firenze che mandò due tecnici che avevano operato durante l'alluvione di Firenze proprio al recupero di strumenti antichi che ci detterono delle importantissime informazioni. Possiamo dire che circa il 70% degli oggetti alluvionati è stato recuperato. In quello stesso anno 2000 inizia un'importante collaborazione con il Festival del Cinema della Montagna di Trento, portando una mostra su Angelo Mosso e la Fisiologia di Montagna. Si proseguì poi l'anno successivo con un'altra mostra, intitolata Anatomia della Montagna, nascita e sviluppo della Scuola Geologica Universitaria Torinese tra 700 e 800. Nel 2002 si celebravano i 50 anni del Festival e l'Astut organizzò una mostra sull'evoluzione tecnologica del cinema. 50 anni dopo, il Festival di Trento attraverso la storia del cinema di montagna. Intanto nel 2001 la presidenza era passata al professor Galloni. La mostra del 2002 a Trento, organizzata in occasione del Festival del Cinema di Montagna, fu particolarmente importante perché fu realizzata chiedendo prestiti al Museo del Cinema di Torino e a varie collezioni private, dimostrando in questo modo che potevamo organizzare delle mostre e degli eventi anche senza usare unicamente gli oggetti conservati nei nostri archivi. In più questa mostra ci diede l'occasione di riscoprire la testimonianza e anche gli strumenti e i filmati realizzati da scienziati dell'Università di Torino a partire dagli anni 30. E qui ricordo il nome di anatomici e biologi come Giuseppe Levi, Roberto Megna, Giuseppe Vicarelli e Giovanni Godina che utilizzarono appunto questo mezzo in modo molto importante. La collaborazione col Museo del Cinema di Torino è poi proseguita con l'incarico che abbiamo avuto di ricatalogare le apparecchiature legate al periodo del cinema muto qui a Torino e questo lavoro ha portato alla pubblicazione di un importante contributo in un volume. Nel 2004 la grande mostra che fu organizzata per celebrare i 600 anni dell'Università di Torino comprese anche la ricostruzione dell'apparato cinematografico al microscopio utilizzato da Giuseppe Levi e da Omenia negli anni 30. Le competenze così acquisite sulla storia del cinema ci hanno portato a collaborare ancora con il Museo dell'Automobile di Torino per il quale abbiamo ricostruito un set cinematografico degli anni 30 all'interno di una mostra sulle marche automobilistiche torinesi. Successivamente ancora, nel 2008, abbiamo partecipato ad un congresso organizzato a Otricoli nel Lazio sulla storia del cinema scientifico italiano in cui abbiamo portato un contributo relativo proprio agli scienziati torinesi che hanno utilizzato il cinema nelle loro ricerche. L'attenzione dell'Astut per i temi della storia della sanità è confermata dall'organizzazione di una mostra nel 2002 a Gassino Torinese sulla storia del locale ospedale con l'esibizione di ferri chirurgici. Nel 2004 era divenuto direttore l'ingegner Domenico Margherita e nel 2008 il professor Claudio Sensi della Facoltà di Lettere era stato nominato quarto presidente. Entrambe sono scomparsi precocemente. L'attuale direttore è la dottoressa Mara Faussone. Una delle costanti attività dell'archivio è la catalogazione del materiale recuperato. Ogni oggetto, dopo un controllo generale, riceve una prima pulizia. Viene esaminato, misurato e le sue caratteristiche vengono riportate su un apposito database insieme a tutte le informazioni relative alla provenienza, al costruttore e al modo in cui è stato utilizzato. Talvolta, per completare l'identificazione del materiale, ci si avvale di vecchi cataloghi di strumenti scientifici, sia cartacei che online, che sono un prezioso strumento per mantenere indicazioni corrette. L'oggetto viene fotografato, corredato di un numero identificativo e viene infine sistemato nel magazzino. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, il recupero dei materiali è stato notevole, sia per quanto riguarda la quantità che per l'importanza dei pezzi. È il caso della dismissione di strumenti non più utilizzati dell'ex istituto di merceologia, in occasione del trasferimento nella nuova sede della Facoltà di Economia e Commercio e del materiale dell'Istituto per la nutrizione delle piante al momento della chiusura della sede di Via Ormea. Nel 2009, l'archivio fu contattato dal liceo dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Napoli. La scuola stava per chiudere definitivamente e la congregazione aveva deciso di donare per intero un ricco gabinetto di scienze. Un caso ancora più curioso è stata la riapertura, dopo circa 70 anni, di un locale sottostante l'Aula Magna dell'ex Istituto di Fisiologia Umana, nel 1994. Si ritrovarono alcuni strumenti di grossi dimensioni, che si era capito subito che erano collegati all'aeronautica, perché, ad esempio, presentavano sedili e comandi di aerei decisamente di un'altra epoca. Dieci anni dopo, fu possibile proporre il restauro di quelli che effettivamente sono stati riconosciuti come primitivi simulatori di volo, grazie alla collaborazione con la legna, con l'associazione Mimos e con il gruppo torinese dei GAPS, gruppo Amici Velivoli Storici. Parallelamente, lo studio di testi e documenti originali permetteva di ricostruire la nascita nel 1917 del laboratorio militare per la selezione dei piloti, che si basava proprio sull'esperienza accumulata con gli studi di Angelo Mosso, condotti nella seconda metà dell'Ottocento sulla Fisiologia dell'Uomo sulle Alpi. Amedeo Erlitzka, allievo e successore di Mosso, fu il protagonista di quella epopea e inventò letteralmente alcuni degli strumenti che sono stati ritrovati. Questo importante fondo riscosse anche l'attenzione del Museo dell'Aeronautica Caproni di Trento, con cui si organizzò nel 2008 la mostra Prova a Volare, che raccontava appunto l'epopea delle origini della medicina aeronautica nella Prima Guerra Mondiale. L'originalità, l'importanza e la completezza dei reperti ha permesso di ricostruire, anche sulla base di foto d'epoca, praticamente tutto il laboratorio del 1917. Per questo la mostra è stata portata nel 2009, prima a Torino, all'officina Grandi Riparazioni in occasione del World Air Games, poi a Varese, nella bellissima sede di Villa Panza di Biumo. Nell'anno successivo, la parte storica della mostra è stata presentata prima nel Palazzo di Torino Esposizioni, nell'ambito della più vasta manifestazione Il Secolo con le Ali, organizzata dall'Aeronautica Militare. Poi, presso l'Aero Club di Genova, col titolo La Simulazione del Volo ai Tempi Eroici della Grande Guerra. In tutte le edizioni della mostra è stato presentato un documentario, realizzato dal regista Liborio Labbate, dal titolo Torino 1917, selezione piloti. Come già ricordato, nel 1991 iniziò la nostra produzione di audiovisivi all'interno delle nostre mostre. La prima fu strumenti ritrovati e da allora l'uso degli audiovisivi all'interno delle mostre è rimasta una caratteristica del nostro archivio, grazie anche alla collaborazione col Centro Audiovisivi della Facoltà di Medicina Veterinaria e del suo direttore Piercarlo Porporato. Nel 2008, per la mostra Uno strumento per la scienza, Viaggio fra i microscopi dell'Università di Torino, che fu aperto presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, abbiamo realizzato un breve documentario sull'uso della camera lucida sul microscopio per disegnare i preparati microscopici. Mi fa piacere ricordare che l'anno successivo questo filmato ha ottenuto il premio IAMS al Festival Internazionale del Cinema Scientifico all'Havana, Cuba. Stimulati da questo positivo risultato, abbiamo poi realizzato una docu-fiction con personaggi in costume sulla vita del dottor Eduard Rostan, che fu un medico e botanico valdese dell'Ottocento. Capitava a volte a un viandante, a un pastore, di sentire il suo bastone prima che facesse giorno. Non era più giovane il dottor Pier Eduard Rostan e forse soffriva già di cuore. E ciò nonostante era ancora curiosissimo. Qui Rostan è in veste di medico. Un medico all'avanguardia. Questo filmato è stato proiettato poi con successo presso il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. La mostra sulla storia della medicina aeronautica ci ha posto il problema di dover spiegare al pubblico il funzionamento di una serie di apparecchi piuttosto complicati e dell'intero laboratorio che durante la Prima Guerra Mondiale aveva selezionato gli aspiranti piloti dell'aeronautica. Per questo abbiamo appunto realizzato un filmato con costumi d'epoca e utilizzando gli spazi messi a disposizione dalla linea aeronautica. Nel 2010 furono preparati tre filmati che accompagnavano la mostra Piemonte al microscopio che si è svolta al castello di Malgrà a Rivarolo Canavese. Venivano presi in considerazione dei momenti della vita di tre scienziati piemontesi. Uno di questi era Donato Rossetti che per primo nel 600 vide al microscopio la struttura dei cristalli di neve e pubblicò un libro con queste immagini. Il secondo era un botanico Giuseppe Gibelli che scoprì le micorrize, queste forme di simbiosi tra le radici delle piante e i funghi. E il terzo un paleontologo Carlo Fabrizio Parona che tramite il microscopio riuscì a classificare i fossili delle rudiste. Nel 2011 furono preparati poi altri due filmati per la mostra La chimica e l'unità d'Italia per illustrare il funzionamento di un polarimetro e di un apparato di KIP, uno strumento utilizzato per ottenere piccole quantità di gas in laboratorio. Nel 2010 a Firenze si è svolto il 29esimo congresso mondiale della Scientific Instrument Commission. In quell'occasione abbiamo portato un nostro contributo che era una riflessione e un bilancio sulla produzione dei video dell'archivio. Infatti l'intervento portava proprio come titolo Making all the Instruments live again, the video experience of scientific and technological archives of the University of Turing. Un altro dei progetti sviluppati dall'ASTUT, relativo sempre alla conservazione della memoria e della scienza e alla realizzazione dei video, è il progetto Ippocampo. In questo caso con la collaborazione di Piercarlo Porporato e di Piero Bianucci è stato messo a punto un questionario, un insieme di domande legate all'esperienza di vita, di lavoro e di insegnamento di ricercatori dell'Università di Torino. Sono state fatte una serie di interviste che speriamo possano presto trovare una degna collocazione sul sito dell'Università. Inoltre con la collaborazione e l'appoggio dello IAMS, l'International Association for Media in Science, si cerca di diffondere questo format anche all'estero e si spera appunto che si possa creare una rete mondiale di interviste di questo tipo. Un altro significativo capitolo della storia dell'ASTUT fu il riordino della parte scientifica del Museo Fadi Bruno che si trova in questo vasto complesso su via San Donato, che comprende una chiesa e vari istituti scolastici. Questo intervento è iniziato nel 2003 e portò come interessante conseguenza alla realizzazione di una nuova esperienza, lo spettacolo Il Teatro della Scienza. Questo fu realizzato con la ricostruzione sul palcoscenico di un gabinetto scolastico di scienze in cui tre personaggi interagivano mettendo in funzione antichi strumenti e facendo rivivere esperimenti ormai raramente eseguiti. Macchine elettrostatiche, strumenti ottici e di acustica venivano maneggiati. Il suono di un pianoforte veniva visualizzato con immagini suggestive. Il successo ottenuto portò a ripetere la recita sette volte in due teatri torinesi, ma anche nell'ambito di Giovediscenza e addirittura a Trento nel 2005. Questa collaborazione è poi continuata con conferenze didattiche e spettacolari, con il restauro di strumenti e con nuove proposte di divulgazione. Altre esperienze di didattica sperimentale, con un continuo e particolare riferimento alla storia della scienza, si concretizzarono nel triennio 2003-2005, nel progetto Micron, dedicato agli studenti delle scuole secondarie e sviluppato per introdurre i principi teorici unitamente alla pratica della microscopia. Tra le attività divulgative e dirette ad un ampio pubblico, c'è stata la partecipazione alla Notte dei Ricercatori, nelle ultime tre edizioni, in cui sono sempre state proposte installazioni con strumenti che permettevano di avere un'esperienza diretta. L'ergografo di Mosso, con la possibilità di registrare il proprio ergogramma, i dischi di Klandni e di Newton per verificare semplici leggi dell'acustica e dell'ottica e infine il microscopio con camera lucida, presentato col significativo titolo Disegni al tuo microbo. Aprendo questa porta, apriamo anche un nuovo capitolo per l'Astut. Da poco si è ottenuto dall'università un nuovo magazzino, in cui per il momento si vedono soltanto grandi scatoloni e materiale imballato. Provenienti dai magazzini della città di Torino, da poco sono stati consegnati materiali molto preziosi, sia dal punto di vista storico che scientifico. Si tratta del Museo di Merceologia dell'Università di Torino, con tutti gli oggetti e i relativi arredi, chiuso con il trasferimento nella nuova sede della Facoltà di Economia e Commercio e della Biblioteca dell'Istituto per la Nutrizione delle Piante, di cui prima abbiamo detto di aver recuperato gli strumenti, che rischiavano di passare gli anni a venire in qualche deposito poloeroso. L'impegno dell'ASTUT, oltre a continuare a recuperare gli strumenti della ricerca che nelle diverse realtà universitarie non si utilizzano più, sarà quello di restituire la giusta dignità a questo patrimonio e di farlo conoscere al maggior numero di persone possibile, con iniziative che presentino la storia della scienza come il risultato del lavoro quotidiano di tanti ricercatori del passato, alle prese con idee e strumenti di indagine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.